Buongiorno a tutti, sono il dottor Cotugno, andrologo. Quest'oggi presso la casa di cura Sarmus di Brindisi abbiamo eseguito quattro interventi di tese testicola, sperm attrition, una tecnica mini-invasiva che permette la ricerca e il recupero di spermatozoi all'interno dei testicoli in pazienti che presentano azospermia, vale a dire assenza di spermatozoi nell'eiaculato, nello sperma. Condiziona ovviamente che rende impossibile una gravidanza naturale. In casa di cura Sarmus eseguiamo rotinariamente questa metodica, è una metodica che deve essere eseguita soltanto in centri di riferimento, in centri che si occupino di azospermia e in questa maniera noi cerchiamo di garantire una paternità biologica a pazienti che in altri modi non riuscirebbero comunque avere una grandianza. È opportuno rimarcare che questi pazienti devono necessariamente essere valutati preoperatoriamente da un personale addestrato a questa tipologia di metodica e in questo senso devo dire che in casa di cura Sarmus eseguiamo ormai questa procedura chirurgica in maniera standardizzata con ottimi tassi di successo che poi è quello che ci chiedono i pazienti che ormai riferiscono non solo dalla regione Puglia ma anche da fuori regione.